Pecciotto, non ti mangiare la pizza alla corte del bacco ma buona la fanno la pizza mhm veramente io voglio chiedere che la scamorza c'è? che ne te fanno come vuoi tu, tranquillo e allora corte del bacco sia eh spero chiamone amonene e mangiamo si ma Totò stavolta paghi tu all'altra volta paghi io e mi costava un occhio della testa quattro pezzi ti mangiaste ancora? a